Buonasera a tutti e benvenuti in Bticino Academy. Sono Giampaolo Monti e il tema che tratteremo questa sera in modalità di dibattito è il tema della supervisione. Per chi è abituato a seguirci generalmente mi vede nei panni di relatore di qualche cosa. Questa sera invece ho con me dei colleghi molto più esperti di me sul tema e quindi mi trovo in solito ruolo di fare il moderatore su un tema che ritengo di fondamentale importanza perché nel bene o nel male molte anche leggi dell'ultima ora si appoggiano su concetti di automazione, automazione domestica, automazione industriale, supervisione. Quindi direi che vale la pena di analizzare con persone che da anni si occupano del tema proprio che cos'è la supervisione nei suoi aspetti. Vi presento subito quindi i compagni di questa serata, cioè i nostri esperti e comincio dal più giovane, Fabio Binda, ma utilizzando i cognomi vado anche in ordine alfabetico. Quindi l'ingegner Fabio Binda che è in Bticino ormai da un po' di anni, che arriva dal gruppo dell'innovazione. Quindi se penso ai sistemi di automazione e alla supervisione è certamente oggi un tema di innovazione. Quindi ha incominciato proprio in quel gruppo e oggi lavora invece nel gruppo di progettazione impianti, portando il suo know-how e al tempo stesso contribuendo allo sviluppo dell'offerta nonché alla visione di come si fanno gli impianti nel terziario in particolar modo di gestione di edificio. Quindi direi che il contributo di Fabio è assolutamente di primo ordine. E poi Maurizio Caspani che è la memoria storica, cioè da prima di me in Bticino ed è prima di me si è occupato di questi temi soprattutto nell'area del power management. Quindi cominciando ancora prima fuori da Bticino occupandosi di progettazione elettrica di sistemi di power e di distribuzione di potenza fino ad arrivare ad oggi, integrando la sua conoscenza e la conoscenza dei sistemi di supervisione fino alla gestione delle reti di media tensione, considerando tutto ciò che implica oggi la gestione di multiple sorgenti di energia che vanno dalla rete al fotovoltaico e nella logica ovviamente dell'ottimizzazione non solo dei consumi ma anche proprio dell'efficienza impiantistica, quindi non solo l'efficienza energetica ma l'efficienza impiantistica. Quindi direi che i nostri relatori sono in grado di coprire tutto ciò che parte dall'arrivo dell'energia alla sua gestione in modo intelligente fino a tutti i punti che sono gestiti all'interno dell'edificio in termini di supervisione. Quindi questo tema, supervisione, io comincerei con chiedere a Fabio ma che cosa è per te la supervisione? Buonasera a tutti, grazie Gian Paolo per la presentazione e grazie a tutti per partecipare stasera a questo webinar. Rispondo subito alla tua domanda. Con supervisione intendiamo la possibilità di ottenere informazioni e dati in tempo reale sullo stato di ogni sistema presente nell'edificio. Abbiamo già questa definizione diversi elementi che sono le informazioni e dati, quindi è necessario per fare supervisione e gestire informazioni e dati. In tempo reale significa che appena avviene qualcosa questa deve essere subito supervisionata e ovviamente abbiamo detto sullo stato di ogni sistema presente nell'edificio, questo perché all'interno di un edificio non abbiamo solo un sistema di automazione ma abbiamo diversi sistemi di automazione e quindi le richieste che si ricevono sempre più oggi sono quelle di permettere un'integrazione tra questi sistemi ovvero un dialogo, uno scambio di informazioni in maniera aperta verso un nodo centrale che noi indichiamo con questo termine generico di supervisore. Il sistema di supervisione è in grado inoltre non soltanto di ottenere queste informazioni e magari visualizzarle in maniera più consona a quelle che è l'utente che le deve visualizzare ma anche è in grado di controllarle e lo fa attraverso logiche, logiche che ci permettono di avere un controllo automatico o logiche che permettono anche un controllo manuale ma da un punto diverso da quello del sistema quindi da remoto tutti questi sistemi. Questa tipologia di supervisione, questa tipologia di sistema viene generalmente chiamato Building Management System quindi si troverà con l'acronimo BMS. Grazie Fabio, quindi se ho capito bene perché spesso anche occupandomi un po' di progettazione il termine supervisione quando lo approcci con qualcuno diciamo pure del mestiere come si dice scopo tutte le volte che ha una sfumatura diversa. Quindi supervisione come ho capito per focalizzare proprio per te è sì guardare quindi supervisionare guardare da sopra quindi acquisire ciò che succede ma alla fine è concluso con il termine BMS quindi Building Management quindi Management prevede anche che non guardo e basta se no sarebbe un visual control dico ma vi siano anche delle azioni quindi può fare hai detto anche delle logiche quindi in questo senso se può fare io dico serve a qualcosa quindi quando serve la supervisione ha sempre senso parlare di supervisione faccio anche questa domanda perché se vado con questa logica che hai presentato visionare e gestire pensiamo dico al super bonus devo visionare la legge mi dice da remoto i consumi energetici e gestire le zone quindi sto facendo una supervisione. quindi in quali progetti ma quando serve serve sempre è obbligatoria sempre oppure possiamo anche fare nemmeno quindi quando serve la supervisione? possiamo rispondere sempre ma è nel senso che dipende ovviamente da tutte le tipologie di sistemi che abbiamo all'interno dell'edificio e deve essere valutato caso per caso se serve o meno una supervisione la supervisione non è fine a se stessa molte volte e tu lo sai bene come anche Maurizio ci viene chiesto abbiamo bisogno di fare supervisione ma dietro questa richiesta non ci sono delle vere e proprie specifiche non c'è concretezza quindi ci viene richiesta una supervisione fine a se stessa perché c'è questa terminologia supervisione che fa intendere che allora stiamo facendo qualcosa di grande all'interno dell'edificio la supervisione è il mezzo per raggiungere tale fine ovvero quello di avere un controllo capillare dell'edificio per alcuni tipi di applicazioni queste applicazioni non le possiamo generalizzare possiamo generalizzarle nel caso di una legge come Superbonus 110 ovvero c'è una legge che ci chiede genericamente di andare a fare termoregolazione da remoto e andare a visualizzare dei consumi allora le possiamo generalizzare però in ogni sistema deve essere progettato perché viene visto caso per caso l'utilizzo dei sistemi BMS deriva dal fatto che le funzioni tecnologiche vengono sempre più richieste all'interno degli edifici quindi per poter soddisfare le specifiche tecnologiche dell'edificio è obbligatorio prevedere più sistemi di automazione non soltanto un sistema di automazione ne abbiamo tanti questi devono essere integrati e tra di loro devono essere quindi in grado di scambiare informazioni e devono essere definite delle logiche di controllo sia automatiche che manuali ogni progetto può prevedere o meno la supervisione indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'edificio quindi le possiamo trovare all'interno di un appartamento, all'interno di un condominio ma soprattutto anche all'interno di aziende, industrie, nel terziario, negli uffici, nella parte di hotel ed RSA la supervisione permette innanzitutto di migliorare le prestazioni energetiche e di comfort dell'edificio quindi ogni qualvolta vogliamo fare comfort e migliorare la prestazione energetica la supervisione è uno strumento che ci permette di ottenere questo scopo allo stesso tempo la manutenzione è una di quelle attività che si semplifica di molto grazie all'utilizzo di un BMS poiché si riescono ad individuare in maniera immediata i guasti e gli allarmi anche alcune volte su edifici molto complessi vengono all'interno della supervisione visualizzate queste informazioni su piante grafiche per alcune attività commerciali come gli hotel, le RSA in cui l'impianto tecnologico dell'edificio rientra nei mezzi per garantire un servizio ai clienti quindi esso stesso è parte del business per queste attività commerciali risulta necessario visualizzare funzioni, gestire funzioni, visualizzare informazioni all'interno di un unico software per un hotel ad esempio è importante garantire un comfort elevato per un RSA è importante coadiuvare l'attività del personale sanitario per evitare incidenti, danni o comunque monitorare al meglio i suoi pazienti questo è un po' quello che io penso su quando serva la supervisione e in che tipo di progetto ovvero potremmo dire sempre e mai, dipende da caso per caso, dipende da quali sono le richieste ok, chiaro, quindi non c'è un obbligo di legge, diciamo così ci sono delle richieste che possono essere soddisfatte da questi sistemi hai toccato nel termine appunto a che cosa serve il sistema di supervisione hai detto a un certo punto all'interno dell'edificio devono essere previsti più sistemi di supervisione o meglio più sistemi di automazione integrati che parlano tra di loro e quindi la domanda che mi sorge spontanea è uno, esiste un'architettura tipo di un sistema di supervisione? ognuno può fare come vuole? vi sono delle architetture obbligate da nome per esempio? o l'architettura deve essere progettata dal progettista in funzione delle richieste? insomma esiste un'architettura o va pensata e dimensionata anche essa in funzione delle esigenze? allora assolutamente l'architettura va pensata e progettata ti chiederei di mostrare una slide in cui ti ho mandato un'architettura tipo generalmente questa è una soluzione che risolve molti casi abbiamo detto che all'interno di un BMS quindi all'interno di un edificio abbiamo diversi sistemi di automazione questi sistemi di automazione svolgono possiamo dire a livello logico verticalmente la loro funzione quindi avremo ad esempio, poi li vedremo all'interno della slide, eccola avremo ad esempio per il lighting un sistema di automazione avremo per la gestione degli impianti meccanici con impianti meccanici si intende in questo caso ho fatto un esempio con l'impianto HVAC quindi abbiamo tre diversi sistemi per svolgere questa funzione avremo la parte di misura sull'energia la parte di TVCC, controllo accessi, sicurezza, lampade d'emergenza ho messo i puntini perché questa lista si può dilungare di molto questi stanno svolgendo verticalmente il loro compito lo possono fare come bus di campo cosa significa bus di campo? significa che loro saranno completamente autonomi queste logiche di funzionamento del sistema devono essere garantite in locale quindi il sistema di automazione dovrà lavorare indipendentemente dalla presenza o meno di altri sistemi garantire le funzioni base ad esempio sul nostro impianto Connex avremo sicuramente un pulsante Connex che andrà a comandare un attuatore per l'accensione delle luci indipendentemente dalla presenza o meno di un BMS e questo dovrà essere poi integrato in un BMS e al di là dei malfunzionamenti di rete che ci possono essere garantire la propria funzione avremo quindi diversi bus di campo che sono quelli che vedete rappresentati nei rettangoli quindi Mod, Bus, Longworks sono tutti diversi protocolli per poter interfacciare i bus di campo al BMS avremo bisogno di un bus comune nell'architettura più comune di tutte che è quella che è rappresentata in questa slide il bus di interoperabilità è la rete LAN quindi i segnali di questi bus di campo dovranno essere impacchettati nel protocollo TCP IP che è un protocollo di trasmissione che permette che i dati vengano trasmessi in maniera affidabile per poter tradurre da un protocollo di campo a un protocollo TCP IP bisogna prevedere un'interfaccia generalmente chiamata gateway non è scontato che un sistema IP sia aperto e utilizzi un protocollo standard senza bisogno quindi di un gateway attenzione questo è un punto importante quindi una delle verifiche che noi dobbiamo fare a livello di architettura è capire se abbiamo bisogno di un gateway o meno per la traduzione da bus di campo a interfacciamento su rete LAN altri bus come ad esempio il backnet IP sono dei bus di campo che lavorano già direttamente aperti per il protocollo TCP IP e quindi non avranno bisogno di un gateway io ho inserito come vedete subito sotto la rete LAN dei quadrati che indicano quando ho bisogno del gateway e quando invece ho dei server che permettono il funzionamento edge il funzionamento edge è il funzionamento locale quindi per leggere questa architettura abbiamo in alto il nostro BMS che sarà un software installato su un computer in questo caso è un computer normalissimo ma potrebbe anche essere una macchina server installata in qualche quadro la rete LAN che diventa trasversale a tutti i sistemi sistemi che riescono a comunicare direttamente come il backnet IP o la tvcc che è su TCP IP in rete LAN senza bisogno di gateway oppure sistemi che hanno bisogno di un gateway per la loro traduzione e alcuni server di funzionamento che servono per le logiche locali che dobbiamo andare ad impostare il BMS quindi lo possiamo definire come l'entità trasversale a tutti i sistemi che raccoglie questi dati ne permette la visualizzazione la gestione attraverso logiche e ne permette anche il controllo in questo caso un controllo da remoto quindi si tratta di un software appoggiato alla rete LAN che svolge la funzione di client i nostri sistemi di automazione che vediamo verticali sono individuati come server il BMS è il nostro client attraverso la gestione degli accessi lo stesso software permette anche che a seconda dell'utente vengano visualizzate diverse informazioni quindi qui in alto dove c'è scritto BMS potremmo avere anche diversi utenti che utilizzano lo stesso computer lo stesso software ma vedranno cose diverse avranno visualizzazioni diverse avranno accessi diversi e potranno fare cose diverse sinceramente un receptionist non avrà la stessa possibilità di agire sul sistema del manutentore e non vedrà probabilmente gli stessi dati che vengono visualizzati al manutentore grazie Fabio però adesso coinvolgo Maurizio perché se no ci stiamo allontanando all'inizio abbiamo detto che cos'è la supervisione ognuno ha un po' le sue idee tu ti sei espresso anche su domande del tipo serve la supervisione potrebbe servire potrebbe non servire quindi rivolgo adesso c'è questa slide avanti che giustamente l'hai terminata con i puntini puntini e ti sei espresso ovviamente può essere aggiunto possono essere aggiunti tanti blocchi e non vedo il power management per esempio qui per cui rivolgo di nuovo la domanda ma in modo molto più sintetico e in modo più cattivo a Maurizio ma visto che è un po' più in là con gli anni anche io dico più esperienza non me ne voglia dico sinteticamente Maurizio sei d'accordo su questa architettura hai qualcosa da dire qual è il tuo punto di vista sulla supervisione proprio in modo sintetico riallacciandosi anche a quello che ha detto Fabio ovviamente sei d'accordo? sì allora innanzitutto saluto tutti e benvenuti anche da parte mia diciamo che in linea di massima sono d'accordo con quello che ha appena detto Fabio e logicamente appunto il sistema di supervisione più che essere servire o non servire io lo vedrei come un sistema modulare dove io su questo sistema proprio vado a far insistere tutti i miei vari sistemi a volte il sistema di supervisione può essere anche la supervisione di un unico sistema quale può essere un sistema di di visualizzazione dei consumi diciamo banali di un edificio per poi passare a sistemi più complessi dove appunto io vado a integrare anche magari sulla stessa mappa non so un sensore del sistema antincendio anziché una vedere lo stato o poter comandare delle delle un circuito luce che appartiene a un sistema appunto di automazione luci anziché andare a visualizzare la temperatura di un sistema HVSI quindi diciamo che i vari sistemi di supervisione va poi dimensionato su quello che è la vera la vera esigenza diciamo impiantistica ok allora faccio una sintesi vediamo un po' se ho se ho capito anche la parte mia cos'è un sistema di supervisione secondo me è diviso proprio in due grandi blocchi il blocco proprio della visione cioè mi deve aiutare a vedere subito come sta funzionando il mio edificio la mia linea eccetera quindi avere un punto dove riesco a controllare i parametri che voglio io punto secondo come ha detto Fabio e anche tu anche gestirli quando serve quindi la possibilità di eseguire dei comandi e io dico da un punto appunto di supervisione a un punto di comando senza dovermi recae sull'impianto e per dirla alla Iannaci e vedere di nascosto l'effetto che fa cioè me ne sto davanti al mio monitor faccio la mia attuazione e il mio monitor mi restituirà al nuovo stato bene direi che è sicuramente se utilizzato bene è sicuramente di grande aiuto nella gestione come avete detto della manutenzione o nella gestione energetica di un edificio nonché anche nelle performance proprio di come ha detto Fabio negli hotel e nell'RSA di adattamento alle esigenze del cliente direi che l'architettura che è ancora qua davanti su questa slide mostra una certa complessità complessità di protocolli quindi di dati con il loro formato che devono essere interscambiati ci sono dei server sostanzialmente vi sono dei gateway come è stato detto e la domanda che mi sorge spontanea e che la rifaccio nuovo a Fabio in quanto elettronico normalmente noi progettisti quando abbiamo grandi complessità dobbiamo capire gli incastri richesse hanno ci affidiamo alle norme cioè la norma mi dà una guida per fare qualcosa nel senso della regola dell'arte ma esistono norme relative ai sistemi di supervisione c'è qualche norma che mi dice come devo fare un sistema di supervisione allora ti risponderei così di getto no nel senso che abbiamo diverse norme diversi standard ad esempio a livello di dispositivo d'automazione abbiamo degli standard che certificano la rispondenza al protocollo del dispositivo sempre in questa slide vediamo tanti dispositivi quando sul nostro dispositivo troveremo la scritta Modbus KNX BACnet Loneworks o quant'altro sappiamo che è un dispositivo che risponde alle direttive di un'associazione o di un'alleanza di costruttori che ne regolano le specifiche e quindi siamo sicuri che tra di loro i bus di campo avranno i dispositivi del bus di campo avranno piena interoperabilità per quanto riguarda la supervisione non abbiamo una vera norma che standardizza il BMS si trovano diverse guide che suggeriscono come progettare correttamente i singoli sistemi di automazione ad esempio in Italia abbiamo la parte di guide del CEI che vengono trattate dal comitato tecnico 205 in particolare sulla distribuzione dei bus di campo molto famosa appunto la 205 14 se non mi sbaglio sul sistema HBS e Bax e sulle montanti quindi la distribuzione filare vera e propria come si consiglia di progettare la guida all'installazione e alla progettazione del sistema HBS ma non abbiamo una norma che ci permette di in qualche modo andare a standardizzare la complessità che vediamo rappresentata in questa slide complessità in cui il software centrale il nodo centrale di supervisione ha un'enorme importanza io prima dicevo parlando di architettura che abbiamo questo funzionamento edge sui server locali ma perché noi vogliamo garantire all'interno di questa architettura che le funzioni vengano svolte indipendentemente dalla presenza o meno di un BMS e dell'interoperabilità tra i vari sistemi quindi avendo tutti un loro server sul KNX non l'ho rappresentato perché la logica è distribuita al singolo dispositivo configurato avendo tutti un funzionamento locale noi garantiamo che anche se stacchiamo la spina al BMS la funzione venga allo stesso garantita per questo che abbiamo rappresentato diciamo questo tipo di architettura che è un'architettura solida ma non ho una norma che mi dice tutte le architetture devono essere così attenzione prevediamo i server io potrei decidere di mettere tutte le informazioni online su cloud senza alcuna sicurezza senza garantire la funzionalità non c'è una norma che mi dice non fare questa cosa o gestisci gli accessi e le autenticazioni in un certo modo perché sono più sicuro o meno sicure stiamo parlando di sistemi elettronici stiamo parlando di sistemi informativi a mio avviso è necessario che data la vasta applicazione dei sistemi di supervisore perché molti edifici nascono con questi sistemi è giusto che ci si muova e ci si coordini per avere delle norme che proteggano questa tipologia di sistema ok grazie grazie Fabio allora abbiamo ancora questa questa slide che dimostra la complessità norme sostanzialmente non ce ne sono mi viene in mente proprio perché vengono citati in qualche modo i sistemi di supervisione la EN cien 15232 che parla proprio del più che del dei sistemi di supervisione sistemi di automazione e del valore aggiunto che si possono portare all'efficienza energetica degli impianti grazie all'automazione se guardiamo la la EN 15232 va proprio segmentare l'HBS il BMS e parla anche di TBM quindi di Technical Building Management se andiamo a vedere più nel dettaglio proprio della 15232 cosa intende con Technical rispetto quindi al TBM rispetto a un BMS scusatemi tutti questi acronimi inglesi io ho visto che la differenza sostanzialmente sta che nel TBM nel Technical c'è in più quella parte che è la misura la misura delle variabili quindi non solo la misura chiaramente di una grandezza elettrica ma la misura anche di una grandezza termica quant'è di calore temperatura e quant'altro quindi a Maurizio Maurizio è fondamentale misurare perché dobbiamo misurare perché ce lo chiede la 15232 o perché ci sono anche delle ragioni che come ci diceva Fabio visto che non c'è probabilmente la normativa che ci obbliga a fare qualcosa ha senso misurare beh diciamo che misurare è fondamentale è fondamentale prima di tutto perché bisogna conoscere un impianto prima di conoscere i flussi energetici e quindi misurare è fondamentale per avere sott'occhio come come diciamo si sta comportando il mio impianto diciamo che la misura in questi ultimi anni ha avuto sicuramente un una parte preponderante negli impianti diciamo elettrici soprattutto perché sono nate certe esigenze non vi cito per esempio efficientamento energetico quindi con degli obblighi legislativi di diagnosi energetica degli edifici nonché aspetti legati al piano nazionale di transizione 4.0 con gli incentivi fiscali dove c'è proprio un quando si parla di beni materiali che possono godere appunto dei benefici parlando di sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità si parla di componenti e sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione e l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni quindi vediamo che anche in questo contesto la misura compare non ultimo è fondamentale anche per determinare una prestazione energetica di un edificio cioè se io devo rilasciare un'attestazione energetica anziché sottostare certificazioni volontarie quali possono essere lead brave ma ce ne sono anche molte altre è fondamentale dare un un andamento diciamo degli assorbimenti e dei consumi del mio dei miei impianti non dimentichiamo quale ultimo come quale ultimo aspetto ma sempre di attualità le esigenze tecniche impiantistiche noi che abbiamo qualche cappello grigio abbiamo sempre utilizzato gli strumenti di misura per fare per monitorare i nostri impianti e fare ad esempio innanzitutto un'analisi della qualità dell'energia andando a vedere fattori potenze contenuti armonici delle nostre grandezze anziché per conoscere i flussi energetici cosa anche questa è abbastanza di attualità con l'avvento infatti dell'autoproduzione verificare quanto sto assorbendo dalla rete fare delle gestioni dei carichi e delle fonti energetiche ormai è diventato all'ordine del giorno ok perfetto grazie mi permetto di aggiungere anche se come sappiamo la parte 8 della 64.8 la parte 8.1 diciamo sulla parte passiva la parte 8.2 sul prosumer quindi che tiene conto come hai detto tu della parte anche di produzione ben sapendo che non è non costituisce al momento obbligo di di essere seguita la parte 8 la parte 8.1 identifica con delle tabelle adesso non ricordo più qual è il senso il numero della tabella ma identifica proprio e dà un punteggio in termini di prestazioni a secondo di dove metti i sistemi di misura partendo prendendo un punteggio zero se non lo metti minimo se lo metti sul quadro generale fino ad ottenere un punteggio di 4 punti che è il massimo se lo vai a posizionare non ti dice su tutte le linee ma su determinate linee quindi viene da me la la C64.8 in questo caso ti dice che è opportuno misurare delle linee più vai nel dettaglio meglio è si limita a quello ma esiste qualcosa dobbiamo misurare cosa dobbiamo misurare ci sono dei parametri che ha senso che vengano misurati più di altri oppure mi sembra che la dico grossa per rispettare il 64.8 metto un po' di misuratori su un po' di linee terminali quindi cosa conviene misurare per avere una panoramica di efficienza di un impianto beh allora innanzitutto partiamo dal dal punto di misura il punto di misura normalmente viene realizzato da uno strumento che è in grado appunto di rivelare una serie di grandezze elettriche cioè può avere dei diciamo dei registri che mettono a disposizione anche un centinaio di grandezze elettriche faccio notare che comunque la maggior parte di queste grandezze elettriche è calcolata perché lo strumento in misura ha solo sonde di tensione e sonde di corrente quindi sostanzialmente con queste con l'incrocio dei dati di questi dati è possibile poi rilevare tutte una serie di grandezze ed è fondamentale quando io vado a diciamo implementare un sistema di supervisione capire l'esigenza del mio impianto per capire quali sono le grandezze che ha senso monitorare vi faccio l'esempio di alcune grandezze elettriche partendo da valori incrementali quali possono essere energie attive reattive parziali totali positive negative quindi già vedete ce ne sono di diverso tipo passando poi per i valori istantanei delle correnti delle tensioni la frequenza i fattori di potenza le varie potenze attive relative apparente con valori di picco istantanei e quant'altro passando poi per l'andamento appunto armonico di correnti e tensioni e dei valori di THD quindi come abbiamo visto i dati sono veramente tanti è fondamentale quindi capire a livello di supervisione quali sono i dati che io intendo tenere sotto controllo e poi scegliere anche gli strumenti idoni che siano in grado di fare questi tipi di rilievi vi faccio un esempio soprattutto pensiamo ad esempio io a livello di supervisione magari vorrei arrivare a monitorare l'andamento della tensione e vedere se ci sono dei buchi di tensione bene sappiate che con un sistema di supervisione è possibile farlo ma solo se ho degli strumenti idoni a rilevare i buchi di tensione quindi devo andare a scegliere degli strumenti adatti che siano in grado di monitorare appunto in grado di rilevare questi buchi di tensione o micro interruzioni in modo che poi io il dato lo vado a leggere nello strumento e lo posso portare a livello di supervisione perché se io vado a leggere logicamente il valore di tensione che cambia istantaneamente nel tempo dovrei impegnare una memoria molto alta e diciamo dovrei avere un sistema molto performante per poter sostanzialmente monitorare continuamente certi determinati valori andando a impegnare il mio bus con continue interrogazioni e quindi con un rischio di un rallentamento anche dei dati mentre per esempio appunto parlando di monitoraggio dei valori incrementali quali possono essere energie attive e reattive l'energia logicamente è un valore che è incrementare nel tempo quindi io posso andare a leggermi i miei valori e riportarli diciamo in grafici che sono in grado appunto di darmi di darmi gli assorbimenti diciamo dei miei i consumi diciamo del mio impianto e dei miei carichi andando a poter poter tracciare anche appunto dei grafici degli andamenti nel tempo quindi è importantissimo appunto capire cosa ne devo fare dei dati perché dei dati ce ne sono veramente tanti e riportarli tutti a livello di supervisione a volte diventa inutile e oneroso hai toccato un tema secondo me estremamente importante mi è toccato impattare su un'analisi energetica con dati rilevati da uno strumento assolutamente performante sia in termini di campionamento che in termini di variabile era semplicemente la richiesta era semplicemente era banale che era quella di vedere con l'inserimento di una determinata apparecchiatura quale fosse l'abbassamento di consumo energetico generale bene mi sono trovato che in tre mesi di campionamento c'erano milioni di dati c'era di tutto e di più dalle potenze alle correnti alla frequenza con campionamenti fatti ai 5 secondi che onestamente è diventato quasi difficile districarsi da tutti questi dati capire quali fossero i dati che realmente avevano un interesse che doveva utilizzare fortemente Excel per andare a fare delle grandi medie quando probabilmente bastava veramente qualcosa di molto più diciamo banale o semplice per quella che era l'applicazione richiesta valutare se c'era un miglioramento dei consumi e quindi hai toccato ovviamente il termine delle variabili e della loro complessità di quante sono la domanda che viene hai detto bisogna sapere cosa cosa misurare perché così si arriva prima a un'analisi che è poi l'obiettivo che segue alla misura cioè prendere un provvedimento oppure dichiarare che tutto va bene quindi la domanda viene spontanea ma esistono dei metodi di misura ci sono dei metodi particolari usi qualcosa di particolare a livello di metodo di approccio nel momento in cui un cliente chiede semplicemente dei dati di misura allora diciamo partiamo un po' di storia la storia noi eravamo abituati ad utilizzare volmetri e amperometri logicamente ad oggi ormai sono spariti perché oltre ad avere questi dati istantanei c'è una necessità di storicizzare questi dati soprattutto appunto relativamente a valori di picco a valori medi anziché appunto relativi ai dati incrementali di consumo l'evoluzione quindi ci ha portato a disseminare nei nostri impianti strumenti in misura con porta di comunicazione quindi per poter essere allacciati a dei bus che a seconda poi del protocollo prescelto sappiano cedere diciamo il sistema di supervisione le informazioni richieste tra i vari metodi di misura poi parlando appunto di conteggio dell'energia attiva pensiamo anche ai contatori di energia con certificazione MID che per aspetti a volte fiscali appunto vengono magari richiesti proprio per avere una garanzia sulla sulla misura effettuata negli impianti sempre di più poi sono presenti anche c'è la necessità di inglobare oltre ai consumi della misura elettrica diciamo i consumi elettrici anche i consumi termici di acqua e di gas quindi anche in questo senso sempre di più è richiesta poi un'integrazione una supervisione a 360 gradi di tutti i consumi energetici di edificio e quindi la necessità o tramite appunto dispositivi che sono in grado di generare impulsi o con dei protocolli propri la necessità appunto di connettere anche questi dispositivi al nostro sistema e supervisione e quindi fondamentale pensare prima questi impianti in modo da posizionare i miei generatori di informazioni che possono essere appunto dei contatori direttamente o eventualmente le sonde amperometriche o volmetriche quando parliamo di elettrico nella posizione giusta dove mi interessa il dato perché logicamente sarebbe bello avere disseminato su ogni linea e su ogni diciamo parlo solo di linee elettriche ma anche per ogni utenza gas ogni utenza termica avere misuratori però sappiamo anche dell'impatto poi impiantistico e economico che hanno il mettere aggiungere tutti questi punti diciamo di rilevamento di consumo parlando di sistemi diciamo di misura poi gli ultimi nati sono proprio per avere nel campo elettrico una supervisione più dettagliata delle linee mi viene in mente per esempio vengono in mente i data center dove lì diciamo il rilevamento del consumo è diventato ormai quasi maniacale per arrivare addirittura a monitorare ogni singolo ogni singolo server cosa in grado di misurare quindi sono nati dei sistemi anche diciamo senza una lettura diciamo diretta della misura ma per poter essere centralizzati e proprio supervisionati a distanza in modo da avere proprio l'andamento dei consumi dettagliati di ogni linea grazie Maurizio mi sorge a questo punto la la riflessione è giustamente detto dobbiamo posizionare la sonda di misura dove effettivamente ci interessa vi sono sonde e protocolli che sono più adatti a fare una misura piuttosto che un'altra quindi questa complessità che è vista a due livelli da un lato la scelta corretta del sistema e dall'altro lato l'efficienza intesa come numero di punti qui adesso la domanda la faccio la faccio a Fabio Maurizio ha detto anche da un sistema di misura posso ricavare cento variabili ma a questo punto che cosa è un punto una variabile di supervisione un punto di supervisione è importante conoscere quanti sono è importante sapere a cosa serve il punto di misura allora sì il punto viene spesso citato quando si parla di supervisione ma in fondo cos'è il punto nei sistemi di supervisione è l'unità di misura che permette di quantificare il numero di parametri variabile e logiche che il software deve essere in grado di gestire quindi tutte queste variabili di misura ma anche altre tipologie di variabili di questi parametri le logiche sono ognuna un punto in questo modo sappiamo quantificare la grandezza del BMS quando si progetta un sistema di supervisione grazie all'uso dei punti siamo in grado quindi di quantificare le variabili in gioco individuare i migliori dispositivi che permettono di ottenere tale funzione tutto quanto Maurizio ci stava raccontando fino ad ora ottimizzare i costi che va proprio esattamente nell'ultima frase che ha detto Maurizio sarebbe bellissimo andare a mettere la misura ovunque però non avrebbe alcun senso a livello di costo ottimizzare i costi sia a livello hardware che a livello software attenzione non solo l'hardware impatta a livello di misura anche il software ha un gran costo all'interno dell'edificio dobbiamo dimensionare il sistema in modo corretto non è un dimensionamento elettrico è un dimensionamento di tutto il sistema della rete LAN ad esempio se ho tanti pacchetti di dati che girano dovrò avere un software che ha delle specifiche minimi cioè un software un computer un server anche industriale in alcuni casi che sappia gestire la quantità elevata di dati che arrivano e che deve essere gestito se stiamo parlando di un edificio importante e anche il punto è diciamo ciò che ci permette di valorizzare economicamente il costo del sistema BMS un multimetro digitale come diceva prima Maurizio può misurare diverse grandezze ognuna di queste grandezze pesa un punto in supervisione nel caso in cui ci fosse installato un multimetro che permette di visualizzare dieci grandezze ma ne voglio portare solo una in supervisione in termini di costo di programmazione della supervisione il multimetro non peserà dieci punti perché ne può misurare dieci ma dato che ne voglio visualizzare solo una questo multimetro peserà uno quindi il costo di un BMS dipenderà innanzitutto dai punti a seconda dei punti avremo diverse licenze quindi ci sono dei software generalmente che sono scalabili modulati mi interrompo un attimo visto che il tempo è anche un po' tiranno e stai già toccando la domanda che avrei voluto farti quindi la mettiamo insieme abbiamo visto i punti di supervisione stai toccando gli aspetti software del server interfaccia utente quindi la domanda che mi viene ma anche qua esiste un software solo per realizzare una piattaforma di supervisione vi sono più software i accenavi ai server edge hanno un loro software quindi esistono quali sono i software sostanzialmente che ci possono servire per supervisionare un impianto di cui alla slide precedente abbiamo visto l'architettura quindi che prevede un po' di connex modbus e tutto quanto serve la gran parte dei sistemi di automazione hanno il loro software dedicato che permette la visualizzazione dei dati il controllo le logiche e quant'altro questi sistemi vengono definiti server del sistema e sono uno per ognuno dei sistemi di automazione il BMS invece è un software che permette l'integrazione di questi sistemi e la visualizzazione da un unico punto quindi un ulteriore software ci sono diversi software provider che vendono il loro software che viene generalmente chiamato SCADA in automazione SCADA significa supervisory control and data acquisition ovvero controllo di supervisione acquisizione dei dati chi sceglie il software è assolutamente il sistema integrator questa figura che è professionale che si occupa della programmazione di tutto il BMS il software è scelto a discrezione del sistema integrator lo stesso sistema integrator ogni volta potrà scegliere software diversi a seconda delle caratteristiche dello specifico BMS della sua capacità tecnica e della preparazione tecnica sul software un software è complesso e generalmente deve essere anche imparato il consiglio che possiamo dare generico è quello di scegliere il software quando tutte le logiche tutte le specifiche come quelle che stai mostrando in slide questi sono i punti sono ben specificate sono chiare e dato che di solito i cantieri hanno lunga vita non cambiano all'interno della vita del cantiere e quindi riuscire a scegliere il software quando tutto è perfettamente chiaro e di solito il consiglio che diamo ai system integrator che fanno parte della nostra rete è anche di chiarire attraverso documentazione scritta firmata e controfirmata tutte le specifiche le funzioni e le caratteristiche del sistema in modo tale da non dover cambiare il software in corso d'uso perché si è scelto un software più semplice ma che non permette di migliorare le funzioni e qui Fabio mi apri l'altra domanda che però rivolgo Maurizio sostanzialmente per due motivi abbiamo visto che è un sistema complesso io spesso lo uso come battuta quando mi capita di dover parlare di quale può essere la differenza tra una supervisione non me ne volere di un terziario rispetto a una supervisione di un industriale e dico bene se nel terziario non riesco a fare un certo spegnimento o accensione generalizzata di un po' di luci certo è un grosso fastidio ma non succede niente quando supervisiono devo gestire un automatismo di due reti elettriche che alimentano un ospedale se qualcosa va storto succede il finimondo come si dice quindi tu giustamente hai accennato anche alla figura del sistema integrato a quello che deve fare alla documentazione dove si dice che cosa deve fare abbiamo una tabella appunti secondo me ben fatta qui davanti che dice in modo molto chiaro quali sono le variabili del livello 10 se sono digitali analogiche quindi risulta anche chiaro cosa devono fare ma a Maurizio faccio la domanda ma si può guidare a livello di progettazione correttamente il nostro non dico solo sistema integrato ma anche l'installatore e il committente stesso cioè con una progettazione ben fatta dove il committente stesso prima di tutti prende conoscenza di quello che sarà il suo sistema di supervisione perché in fondo il ruolo del progettista è quello di prendere le esigenze funzionali del committente che nulla sa ovviamente per lui il sistema Modbus o Connex pari sono nulla sa di questo ma lui si aspetta però una funzione ben precisa quindi la domanda che ti faccio è quali sono la qual è o quali sono i documenti che un progettista deve predisporre affinché lui sa e ha già risposto al committente che attraverso quei documenti si realizzerà un sistema di supervisione che soddisfrerà l'esigenza del committente ma quei documenti sono indirizzati ovviamente in primis a installatori e a sistema integratore i quali dovranno leggerli per capire bene come dovrà essere costruito il sistema di supervisione quindi la domanda è c'è una documentazione standard che documentazione consigli di fare per aiutare appunto l'installatore a capire come deve essere fatto un sistema di supervisione partirei da una checklist ho preparato anche un paio di slide giusto per facilitare la cosa allora in questa lista ho messo un po' quali sono le domande che mi devo fare quando devo abbozzare e iniziare a progettare un sistema di supervisione e di integrazione quindi quante e quali informazioni servono in ogni dispositivo connesso al singolo sistema abbiamo detto prima sono i singoli dispositivi che hanno in pancia le informazioni quindi il tutto nasce dalla scelta dei dispositivi che vado a installare in campo in modo da poter avere le informazioni poi a livello più alto a livello di supervisione quindi quanti e quali sistemi intendo integrare nel mio BMS cioè possono nascere anche software diversi per i vari sistemi se la necessità invece è quello di avere come dicevamo prima uno scato o comunque un software unico che gestisca tutti gli impianti va chiarito già dall'inizio in modo che poi si scegliano dei sistemi atti allo scopo passando poi attraverso quali linguaggi devono essere utilizzati qui vengono riportati alcuni proprietari alcuni diciamo a protocollo aperto quali poi sono i mezzi di comunicazione da utilizzare perché poi io devo pensare anche che devo far trasmettere queste informazioni quindi devo pensare dei cavi bass anziché al dimensionamento di una rete come vedevamo prima con dei cavi ethernet o in fibra ottica che fanno la connessione tra i vari sistemi passando poi anche per sistemi radio quali wifi gsm e quant'altro quali sono poi i mezzi per le modalità di accesso al mio sistema cioè se intendo utilizzare smartphone tablet pc browser app cloud o dei programmi specifici cosa e come intendo visualizzare le mie informazioni quindi la costruzione di pagine web dedicate anziché di tabelle delle viste impianti di schemi a blocchi immagini icone e quant'altro poi se il mio sistema appunto deve effettuare anche delle logiche delle attuazioni o delle regolazioni viene in mente per esempio una gestione cariche anziché una generazione di eventi con logica calendario attuazioni al verificarsi di un certo evento gestione di set point interazioni tra i vari sistemi poi se appunto occorre storagizzare consumi parametri o allarmi questo è sempre più richiesto e poi passare poi alla necessità di poi inviare dei feedback agli operatori parlavamo prima appunto dei manutentori che possono ricevere delle mail o dei messaggi quando avviene un certo evento ti chiederei di passare vai ecco infatti stavo dicendo e quindi l'auto di progettazione quindi è l'elenco punti indispensabile per il dimensionamento l'abbiamo visto prima con Fabio è la prima cosa da fare per avere un dimensionamento per passare a un dimensionamento del mio sistema anche software passando poi per uno schema blocchi dove vengono rappresentati i vari collegamenti e come intendo far girare tutti i miei i miei segnali verso il BMS indicando in quali punti poi intendo accedere alla rete LAN di edificio per poi arrivare a una specifica tecnica che riassume diciamo quello che abbiamo visto prima nella checklist quanti e quali sistemi vanno integrati quali sono i linguaggi da utilizzare quali sono i mezzi di comunicazione da utilizzare quali sono i mezzi e le modalità di eccesso come e cosa si vuole visualizzare ed eventuali necessità di logiche regolazioni storidizzazione consumi e invio di feedback agli operatori ok questo è un po' quello che si dovrebbe arrivare alla fine della progettazione per dare la possibilità a chi poi deve fare l'impianto di capire appunto di capire allora direi che abbiamo impegnato una buona ora su questi temi direi che sono stati toccati i punti più importanti mi piacerebbe sentire anche tra i partecipanti se vi sono domande in merito quindi se qualche d'uno ha delle domande vuole chiarire dei concetti direi che adesso è il momento è il momento di farlo abbiamo a disposizione due esperti e quindi attendiamo vostre vostre domande in questo senso tanto che attendiamo se qualcuno ha domande ha domande in merito io colgo l'occasione per ringraziare tutti gli uditori e i relatori che si sono profusi nel dare un punto di vista su appunto sui sistemi di supervisione di cui ripeto se ne parla sempre di più in tante forme piace aggiungere una una battuta che parlando proprio con un sistema integrato non più di una settimana fa proprio sul confronto delle interfacce utenti io ho usato il termine che ha usato anche Fabio che nonostante della sua gioventù ha parlato di Scada e ho visto questo sistema integrato che qualche cappello bianco ce l'aveva storcere un po' il naso e fa no Scada sono sistemi antiquati effettivamente oggi si parla di app cioè sostanzialmente fanno secondo me quello che facevano gli Scada però effettivamente hanno un nome diverso è diventato tutto più facilmente fruibile lo Scada è ancora fissato alla postazione fissa con il monitor magari 32 pollici che fa vedere tutto il processo come fluisce sulle app diventa tutto più parcellizzato però decisamente più più rapido per andare a fare il monitoraggio quindi anche questa evoluzione che abbiamo visto l'ha fatto vedere Fabio che ha ripreso Maurizio del passare da quelli che sono i protocolli di campo che una volta attraverso le varie interfacce seriali RS232 485 Profibus eccetera eccetera Twinax addirittura la usava l'IBM per arrivare a portare i dati a un punto di supervisione oggi siamo passati tutti alla rete alla rete internet con comunicazioni tipo wifi o filare e possibilità di avere una fruizione dei dati veramente molto parcellizzata che dal mio punto di vista e vedendo che non ci sono domande considererei anche concluso il nostro dibattito diciamo dal mio punto di vista è comunque ed è stato toccato attenzione ai dati avere tanti dati e in modo facilmente fruibile non è un segnale che possiamo avere tutto sotto controllo perché la capacità è proprio quella di sapere che cosa che cosa misurare e dove misurare e che cosa automatizzare e come automatizzare il dire che posso fare tutto dal mio punto di vista equivale quasi a dire che non faccio poi niente perché le complessità sono talmente elevate che poi alla fine e concludo con una battuta che in tanti mi hanno fatto so di avere un sistema di supervisione che dovrebbe essere equiparato a una Ferrari però io non lo uso neanche come una 500 e con questo ringrazio i relatori i loro punti di vista e tutti voi che avete partecipato a questo talk show e a questo confronto di opinioni per dire la italiana e vi do appuntamento al prossimo confronto di opinioni e ai nostri webinar sulla piattaforma di BTC No Academy grazie e grazie a tutti e al prossimo appuntamento grazie buonasera anche da parte mia grazie grazie a tutti